Leggiamo dal sito del Pistoia Basket. Raggiunto negli Stati Uniti, coach esposito ha commentato i primi tre movimenti di mercato della società, il riscatto di Severini, la conferma di Figlioi e l'ingaggio di Antonutti. Ho visto per la prima volta Luca alle finali nazionali Under 19 a Torino quando non era ancora coach di Pistoia e mi aveva impressionato in maniera molto positiva. Ovvio che per giocare in Serie A ci vorrà una crescita fisica e tecnica graduale, ma da ciò che ho visto con i dovuti tempi avrà sicuramente l'opportunità di poter mostrare le sue capacità anche nella massima categoria. Per quanto riguarda Ariel invece sono molto felice per il suo rinnovo. È un giocatore esperto nonostante sia ancora giovane e con il talento e la personalità giusta per giocare in due ruoli. Parlando di Antonutti abbiamo firmato una persona e un giocatore di affidabilità e professionalità che in una squadra vorresti sempre avere. Michele può giocare da 4 o da 3 tattico, è un ottimo tiratore dalla lunga, buon passatore e conoscitore del gioco e l'anno scorso a Caserta ha confermato di essere efficace anche uscendo dalla panchina. Con lui ed Ariel abbiamo due giocatori che saranno molto importanti anche per l'inserimento di eventuali statunitensi alle prime esperienze in Italia e di quei giovanotti che faranno parte della prima squadra.